Buongiorno, iniziamo la conferenza stampa. Angelo Mangiante, Sky Sport. Eccoci, buongiorno. Allora, partirei da un po' dalla condizione generale della squadra post fatiche, no? Anche di Europa League, perché è sempre un elemento che va considerato se hanno più o meno tutti recuperato. C'era anche Mancini, Febricitante, quindi magari ce l'ho di dire a lei, si è recuperato un po' tutti, a parte chiaramente Sharaoui e Salerno e Kersa. Volevo sapere qualcosa in più sulla valutazione della condizione di forma sia di Di Bala che di Pellegrini. Io lo chiedo perché si parla tanto di qualche gol mancato, sono mancati fino ai gol dei trequartisti, no? Per il momento c'è solo un gol sul rigore di Di Bala e ancora a zero Pellegrini. Come è starlo da un punto di vista fisico, da un punto di vista di brillantezza? No, no, mi sembrano bene. Penso che specialmente Pellegrini è stato molto sfortunato perché ha preso le traverse, ha avuto tante occasioni di gol. Non è riuscito ancora a sbloccarsi, però li vedo molto bene. Entrano in tante occasioni, tante situazioni pericolose, per cui li vedo in una condizione ottimale. Poi è chiaro che tutto il gioco alla fine dipende dei gol fatti di loro, loro che sono vicini alla porta e speriamo migliorare il proprio aspetto della conclusione del far gol. Invece Mancini ieri si è allenato, è ok, oggi vediamo sulle... che anche lui aveva febbre e vediamo oggi si è recuperato. Vespasiani, SRuma.com Buongiorno mister. Palladino è stato un suo compagno, lei era il compagno esperto e Palladino era molto giovane, poi è stato il suo allenatore. Lo conosce molto bene, la Fiorentina ha fatto 10 gol nelle ultime due partite. Quali sono le insidie maggiori di questa squadra? No, una squadra che secondo me ha 20 elementi, tutti di grande qualità già da anni passati, adesso hanno fatto altri acquisti secondo me ottimali e ha preso una strada giusta le ultime 3-4 partite, sta facendo molto bene, sappiamo molta organizzazione, molto talento, tante soluzioni, sicuramente squadra di grande valore. Pugliese, la Gazzetta dello Sport. Salve mister, io vorrei tornare sulla questione dei gol, questa è una squadra che ha segnato poco, molto meno con Daniele e di più con lei, molto meno con De Rossi e di più con lei. Ecco, lei ci sta dicendo, anche adesso ce l'ha ripetuta la domanda di Angelo, che bisogna migliorare in quella fase lì, probabilmente nella finalizzazione, nell'essere più cinice, come si può migliorare? Che cos'è che manca a questa squadra in questo momento per fare più gol? No, è chiaro che se una squadra ha tutto questo possesso, tiri in porta, penso se non mi sbaglio prima in classifica dei tiri fatti in porta, c'è un po' di tutto, penso che sono stati tanti palli, tante situazioni che anche altra sera erano nitide e chiare, secondo me la qualità tecnica c'è, qualità di esecuzione c'è, bisogna credere magari un po' di più, ancora un po' più di convinzione, non è che c'è, è solo una cura, però ci lavoriamo, vediamo che arriviamo, che siamo in quella situazione e speriamo che tutti si sbloccano un po'. Aliprandi, il Corriere dello Sport. Salve mister. Salve. Le chiedo se questa con la Fiorentina è una partita decisiva anche per capire le ambizioni di questa squadra, vista la classifica, viste le partite che ci saranno dopo, visto l'importanza di un big match anche per gli scontri diretti e se domani si aspetta la risposta importante anche per quell'aspetto su cui ha battuto qualche giorno fa sulla mentalità vincente. Io penso che la squadra ha preso strada giusta su tante cose, si vede nelle prestazioni anche altra sera, ho visto tantissime cose positive, sicuramente per vincere le partite bisogna essere molto più cattivi davanti alla porta, fare dei gol e non concedere veramente nessun calo di attenzione. Mi sembra che ogni partita è molto molto importante perché siamo indietro, per cui c'è un scontro diretto in un certo senso e ha un valore specifico. Poi per noi è specifico anche che vogliamo veramente prendere una strada positiva, è fondamentale fare una grande vettore. Stefano Garina, il messaggero. Buongiorno, io volevo tornare sulla spiegazione che lei ha dato nel post partita sul motivo perché Hummels non gioca. Lei ha detto in questo momento io voglio cambiare poco, tra le altre cose Indicà mi sta dando delle garanzie. Allora, io però mi rimango un attimo perplesso per questo motivo perché Indicà lo scorso anno, anzi nell'anno e mezzo che è stato a Roma ha spesso e volentieri, anzi quasi sempre è giocato come centrale di sinistra, perché c'era Smoling che faceva il centrale in mezzo. Immaginare una difesa con Mancini, Hummels, Indicà, io penso che possa essere ritenuta plausibile una difesa di questo tipo. Allora, volevo chiederle, Hummels che cosa ha in meno? Non sta bene dal punto di vista fisico, non le garantisce magari la copertura se lei vuole giocare con la linea un po' più alta? C'è una motivazione? Perché in questo scorso di stagione, con tutto il rispetto, abbiamo visto in campo anche Abdul Hamid. Cioè pensare che Hummels, un giocatore che tre mesi fa ha fatto la finale di Coppa dei Campioni, è stato premato nell'undici migliore di tutta la competizione, è vero che è arrivato tardi, però ormai siamo a novembre e non l'abbiamo visto nemmeno un minuto. Ci può dare, cioè può magari darci una spiegazione un po' più ampia sulla motivazione per il quale non ha disputato nemmeno un minuto? Grazie. Penso di no, cioè quello che ho spiegato l'ultima volta per me è molto semplice. Cioè arrivo all'allenamento, guardo, sta meglio uno o l'altro e scelgo in base di questo. Cioè l'età, curriculum, cioè un allenatore non guarda. Quello che guardo arriva all'allenamento, chi mi dà più sicurezza gioca questo. Penso che se giocasse così, magari poi mi chiedi di ermosso, come mai un giocatore di Atletico Madrid non gioca? Cioè... Sono le... Sono le... L'unico che non è mai sceso in campo. No, no, cioè penso che... Mi ha fatto capire praticamente che può giocare solamente al posto di Indica, mentre invece Indica per un anno e mezzo a Roma l'abbiamo visto come centrale. Io penso che il futuro di Indica è quello là, cioè che ha tutte le capacità di diventare assoluto top player in quella posizione, che gli permettono doti fisiche, aggressività, tutto quello che ha e mi sta dimostrando questo. E domani avrà una... Una prova difficilissima con Ken. Il... Cioè... È proprio scelta tecnica. Se ti vado a dire... Cioè... 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 Salamakers sta andando bene. Io spero, cioè... Cioè... Non anticipare troppo che dopo questo ciclo di tutte le partite potrebbe rientrare piano piano con noi. Invece Stefan continua e vedremo per la prossima, se non per quell'altra. Però il recupero sta continuando bene. Invece... Grandi complimenti a Zalewski per la partita contro Dinamo Chieva a destra, dove... Eh... Soprattutto mentalmente è stato top. Molto concentrato, molto sul pezzo. Cioè... Tutti avevamo un po' di... Diciamo... Di paura. Però... Vedere la reazione di un giovane ragazzo, no? In situazione che si trova e che mi dispiace molto, perché... È un ragazzo veramente a posto. E ha fatto un'ottima gara. Sono contento per lui, che mi ha dimostrato a livello mentale che è forte, che non è un bambino. Di esterni... Sì, vorrei... C'è quello anche che fa lui. Nel senso... Il dribbling, superiorità numerica, penso che... Specialmente in partite molto chiuse, giocatori che ti possono fare differenza sull'esterno, c'è dribblare, sono fondamentali. Lui è uno di questi. Poi c'è il Sharavi, c'è più Salamakers. E gli altri sono... C'è tipo un altro tipo di giocatore che danno magari altre cose. Meno... C'è uno contro uno seccono che mi aspetta. Pastore, il romanista ultima. Buongiorno. A che punto è la Roma di Juric? E soprattutto dopo un mese che lei sta qui. Lei crede che questa rosa sia attrezzata per arrivare nelle prime quattro? No, io penso che su tante cose siamo dati oltre. Secondo me, su tante cose che avevo paura siamo dati molto bene. Penso che c'è da... Veramente da ricostruire un po' la... Che ti senti un po' più forte, un po' più grande e vincere le partite. Non mi riferisco neanche a Inter, ma più magari a Monza e Ellsburg. Scusami, altra era? Hai continuato? Ah, sì. Secondo me, se ogni mio giocatore, come ho fatto tutta la carriera, alla fine migliora, migliorerà la squadra. Alla fine il mio lavoro era sempre quello. Migliorare giocatori che non sono magari in quel momento top e si riesce a migliorarli, allora la squadra diventa più forte di quello che è adesso. Cioè, a disposizione, secondo me, ho tanti giocatori da lavorare, interessanti e anche quelli che sono un po' più grandi, secondo me, possono veramente migliorare sia fisicamente sia come concezione del gioco. C'è questo obiettivo assolutamente da provare. Grazie. Prego.